Lo sbroglio di molte borda può assorbire la maggior parte del tempo dedicato alla progettazione e se si lavora con circuiti flex o board dalla forma particolare, può essere necessario un tempo perfino maggiore. Quindi, com'è possibile sbrogliare in maniera rapida ed efficiente intorno a curve o angoli? Disegnare degli archi manuali può essere un'opzione, ma sono lenti e non molto precisi. Il contour routing permette di disegnare facilmente tracce curve, uniformi e regolarmente distanziate, con qualsiasi angolazione dei circuiti flex, garantendo la massima flessibilità e il minimo stress sul rame. Se si lavora con progetti high speed o RF, il contouring potrebbe non essere necessario, ma lo sbroglio dell'arco può aiutare a ridurre sia le riflessioni che gli aumenti di temperatura. Rimuovere le tracce angolate che causano perdite elettriche minori aiuta a mantenere una buona integrità di segnale. Sbroglia con sicurezza e precisione in qualsiasi progetto e migliora facilmente la tua produttività.